Benvenuti nella contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse dei medi italiani allineati all'euroatlantismo. Oggi andremo per ordine di raccolta cronologico dalla notizia però inverso, dalla notizia più recente a quella più lontana. Il Presidente della Repubblica Ucraina, Volodymyr Zelensky, lo ha ammesso come datitolo. I russi hanno colpito, quindi hanno trovato, la sede, il quartiere generale dei servizi segreti della SBUSB Ucraini, nella città di Sumi, nel nord-est dell'Ucraina del 91, città di confine con la Federazione Russa, come sappiamo, su questo canale. Il Presidente Zelensky si è congratulato comunque con l'aviazione e le forze della controaerea, della difesa aerea e dell'esercito ucraino. Infatti quella era la giornata in cui si festeggiava in Ucraina proprio questo tipo di combattenti. Dice lui, purtroppo non siamo riusciti a prendere dall'Occidente, a ricevere abbastanza una buona quantità e qualità necessarie per coprire, per difendere tutto, tutti i cieli dell'Ucraina. È un territorio enorme e come sappiamo questa è letteralmente una missione impossibile dal punto di vista militare e concreto. Lo sappiamo in Ungheria dalle analisi e dai racconti dell'analista e dello storico militare Shom Kuti Balint, ma anche dall'israeliano Robert C. Kast e da altri analisti. Non per forza filo russi, né filo russi, più che altro neutralisti, attaccano e criticano anche l'Occidente, a differenza di quello che si sente dai telegiornali, dai programmi televisivi italiani che conoscerete meglio di me e inascoltabili. Un drone iraniano, secondo Zelensky, oppure potrebbe essere un Lancet russo, in realtà, ha colpito la città di Sumi. E, secondo Zelensky, anche delle case, delle strutture abitate da civili, quindi parla di crimini di guele, il presidente di Kiev. Ad essere stata colpita è anche la sede della SBU nella stessa città. Zelensky si è rassicurato, contattato il generale Oleschuk, che è il capo delle forze d'aria, comunque, della difesa aerea dell'esercito ucraino. L'obiettivo è quello di rafforzare lo scudo aereo, magari chiedere di chiudere i cieli, no fly zone, della Nato, che scatenerebbe la Terza Guerra Mondiale, come sappiamo, da un anno e mezzo a questa parte. Il capo fondatore della Wagner, Iervieni Prigozin, dopo il colpone di Stato di sabato dell'altro sabato, di qualche settimana fa, tornerà al fronte. I combattenti, i mercenari della Wagner, torneranno al fronte. E questa è una frase ambigua. Prigozin, nella scorsa settimana, quella che abbiamo appena salutato, almeno una volta è tornato in Russia, dalla Bielorussia, dove sarebbe poi, secondo gli accordi con Putin, andato a finire dopo il colpone di Stato, il grande golpe. Prigozin, comunque, non ha specificato, in questo audio di Grayzone su Telegram, quale fronte andranno a coprire di nuovo i mercenari della Nato. Qualcuno parla di Africa, molto più probabile, comunque, il fronte sud-orientale dell'Ucraina. Diverse centinaia di Rom della Repubblica cieca in strada a protestare contro l'accoglienza, comportamento dei profudi, qualche profugo ucraino, nella città di Pardubice, credo si dica in italiano, famosa per l'università, a riportare il giornale locale Denik N. E questo è successo sabato scorso, qualche giornata fa, uno scontro tra diversi Rom e tre profui ucraini, una scazzottata. La polizia, secondo la polizia, nella Zuffa ci sono state coinvolte almeno 20 persone, tra i Rom un ferito piuttosto gravemente e tre arrestati in generale, c'è anche la fonte Twitter. Non è la prima volta che succede una cosa simile in Repubblica cieca, uno scontro tra minoranze, mettiamolo in questo modo. Il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, ha confermato che sono stati distrutti già in Ucraina, dal 4 giugno scorso inizio della grandissima controoffensiva ucraina, il numero pari a tutti i Leopard 2 dati congiuntamente da due nazioni, Portogallo e Polonia. Lo ha riferito il capo El Di Castello del Cremlino lunedì scorso, 16 Leopard totali, tra cui da Varsavia i Leopard 2 A4 e i più moderni dal Portogallo i Leopard 2 A6. L'esercito ucraino ha finito completamente le riserve di armi, di questo tipo di armi, di Stinger o Stinger, cioè quel sistema di difesa aerea dall'Occidente, a riportarlo Newsweek e non una fonte russa, filo russa. La Russia lo sa, e lo sa bene, a confermarlo l'esperto militare credo britannico Alan Orr. La CIA, quindi i servizi segreti esteri americani, vedono un'enorme possibilità storica nel conflitto ucraino, in che senso? Un'enorme possibilità nell'arruolare nuove spie informate sulla Russia per indebolire il governo, la presidenza di Putin al Cremlino. Confermarlo William Burns, capo della CIA, sabato scorso, la CIA che da maggio a maggio scorso ha aperto un canale Telegram pubblico dove arruolare, per arruolare anche spie esperte di Russia, canale visto milioni di volte solo la prima settimana. Secondo invece Mosca, l'ambasciatore in America di Mosca, Anatoly Antonov, i soldi, i dollari dei contribuenti americani vengono sprecati in questa maniera, con queste azioni in stile canale Telegram. Si è capovolto l'esito della controoffensia ucraina, in che senso? Adesso sono i russi in molti settori ad avanzare ai vari fronti. Gli ucraini lo hanno ammesso, Adal Jazeera, Anna Malia, il vicepresidente, vice, scusate, ministro della difesa di Kiev, dice e conferma che la situazione si è complicata tantissimo per noi. I russi avanzano nei settori di Avdeyevka, Marinka, Liman e Svatove, mentre gli ucraini hanno dei parziali successi unitattici e non strategici a sud di Bakhmut, a Artyomovsky, a Donetsk, a Berdyansk e a Melitopol, secondo quindi quanto riportato ad Al Jazeera. Kadirov, il capo ceceno, ha smentito le bugie della propaganda ucraina in un video in diretta registrato su Instagram, sul suo canale profilo personale Instagram. Lo ha sbugiardato le voci ucraine sulla sua malattia e sulla malattia grave di Adam Yelimhanov, un ceceno rappresentante nella Duma di Stato, la Camera Bassa Russa. Kiev non ha più armi per cercare di fermare i droni russi, l'ANSET, non ha più sistemi missilistici di difesa aerea. A confermarlo Yuri Sak, che è un consigliere molto importante al Ministero della Difesa di Kiev, infatti Kiev secondo lui non ha preso abbastanza armi di questo genere all'Occidente per andare a disturbare le azioni di incursione dei droni russi. A Lione, in Francia, cambiamo argomento, ci sono stati gli hooligans, cioè i tifosi patrioti, chiamateli come mi pare, che hanno cercato di difendere le vetrine e i negozi dalle manifestazioni dei giovani immigrati di seconda, terza, quinta, ventesima generazione in Francia. Ho sentito quello che dicono le televisioni italiane, e trattano questi tifosi come dei criminali di estrema destra, fascisti, nazisti. E la polizia, la notizia dove sta che la polizia, lancia lacrimogeni anche contro queste persone che cercano di salvare le attività magari dei parenti, degli amici, dei francesi. Le attività commerciali, i negozi, gli uffici, le case, eccetera, eccetera. Dopo tutte le violenze a cui abbiamo assistito, in stile se non più grandi rispetto a quelle delle banlie del 2005. Un prete cattolico ottantenne è stato aggredito brutalmente dai manifestanti in Francia. Francis Pai, il suo nome, 29 giugno scorso è accaduto, quindi giovedì a Saint-Étienne, nella loira francese. È stato buttato anche a terra, derubato anche del telefonino e del portafogli. È stato trasportato d'urgenza in ospedale. Non è stato aggredito in quanto, in qualità, di prete va detto, perché non avrebbe poi, secondo i testimoni, indossato neanche un simbolo religioso, nella tunica, né un crocefisso, eccetera. Però nella stessa giornata, di fine giugno, a Haute de Saint-Étienne, un altro prete cristiano è stato attaccato mentre si trovava in chiesa, a confermarlo lui stesso su Twitter in un messaggio che ha voluto cancellare immediatamente perché teme per la sua stessa vita. Per chiudere, il magnate finanziatore, speculatore, investitore, considerato un vero e proprio filantropo dagli allineati in Occidente, Soros Dierdi e la sua fondazione Open Society Foundation, secondo Bloomberg, starebbe per cominciare a dei maxi licenziamenti dal 40% del personale totale perché l'obiettivo sarebbe quello, come ha confermato Mark Malloch-Brown, ex ministro in Gran Bretagna, quello di andare a creare una rete globale, senza scopo di lucro, ufficialmente, più agile, un'organizzazione più agile. Commentate voi. Grazie per aver visto questo video al prossimo, tra Italia e Maggiore Orsaghi, iscrivetevi e lasciate un mi piace.